buonasera buonasera allora come mai vi in Italia? in Italia per due progetti molto importanti, uno di cinema e due eventi poi per conoscere una bella gente italiana e il nipote? eh il nipote quello è primario assoluto, la mia madre mi cangellava ero già nel nel fuori testamento ho fatto una clausoletta una pagina che si e poi buonasera a tutti i nostri amici italiani che ci riprendono e vogliamo ringraziare il fenomenale Pietro che in questo momento sta mettendo appunto nuove tecnologie di ripresa e ringraziamo la meravigliosa intervistatrice la nostra stupenda Deborah senza H mi raccomando con due B ma fantastico 7-8 niente non è mi capito perché serve e questa è la fantastica siamo qui al Central Bar vedere per credere niente non è thank you thank you a questo punto su queste nuove fantastiche assaggiamo la macedonia con il gelato e ci rivediamo a gusto sul canale 5 grazie 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 grazie